Ciao a tutti, oggi volevo fare un video su... Grazie a tutti. 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 Un pochino più corto davanti, un pochino più lungo dietro. Anche questo pagato 5,99€. Poi, altra felpettina molto molto semplice, grigiolina, così con le maniche a tre quarti. Allo scollo piuttosto largo. Questo è zip sui fianchi. E anche questo l'ho pagata praticamente 6,99€. L'altra maglia è questa. Tutte queste pagliette sul davanti, mentre la parte delle maniche dietro è liscia. Anche questa è di Calliope, anche questa è una esse, anche questa ha le maniche a tre quarti. 5,99€. Ho preso questa, questa camicia, con tutti questi fiori a mezze maniche. Questa è leggerina, però non è trasparente. Dietro ha tutti i bottoncini fatti così. Sono bottoncini di metallo. E questa l'ho pagata 2,99€. E ultimissimo, questa è una maglia sempre leggera, bianca, con la mezza manica risvoltata. Questa non c'era una S, quindi ho preso la M. La parte sopra fino a circa l'ombellico è fatta in maglia e poi sotto c'è una parte fatta appunto così. Vi mando un saluto. Ciao!